Mario Rossi decide di entrare nell'esercito, ma da sempre, fin da bambino, ha avuto un problema nel ricordarsi i numeri. Appena entra, gli viene assegnato il numero 28. E ovviamente ogni volta che gli viene chiesto di fare passo avanti e di dire nome e numero, lui non si riesce a ricordare che il suo numero è il 28. Tutte le mattine si ripete la stessa storia, ovvero passo avanti, nome e numero, e lui, Mario Rossi, numero... oddio, non me lo ricordo... 28! È il 28! Quante volte te lo dobbiamo dire che è il 28? Lui è pavelto, sempre più spaurito, niente, fa il passo indietro, domani me lo ricorderò, ma niente, non riesce a ricordarselo. A un certo punto il colonnello si incazza, va da lui e gli dice, domattina alle 8, io ti voglio nel mio ufficio e mi devi dire nome e numero, altrimenti sei fuori dall'esercito. Tutto dispiaciuto questo... scusi sì però, mi può ricordare solo un'ultima volta che numero sono? Il colonnello, il 28! Quante volte te lo devo dire! Sì ok, 28, 28, 28, 28, 28... Passa tutta la notte così a cercare di ricordarsi il 28. La mattina successiva alle 8, puntuali come un orologio svizzero, si presenta nell'ufficio del colonnello. Mario Rossi, benvenuto, entri, mi faccia un passo avanti e mi dica nome e numero. Mario Rossi fa il passo avanti... Mario Rossi... E poi tutto titubante... Si guarda un attimo la giubba... 28. Il colonnello, ah, finalmente! Ho dovuto minacciarla di buttarla fuori, adesso lei mi dice come ha fatto finalmente a ricordarsi questa volta che lei è il numero 28, ma soprattutto perché ha rovinato la sua giubba con quei tre aghi. E Mario Rossi si guarda un attimo la giubba, indica gli aghi e fa... Beh... Perché? Ago filo, filo lana, lana pecora, pecora latte, latte tetta, tetta tetto, tetto casa, casa chiesa, chiesa prete, prete messa, messa in moto, motosega, sega albero, albero natale, natale 25... 26, 27, 28! 27, 28!